Il teatro che diventa una delle possibili leve per accompagnare i detenuti nel loro percorso di cambiamento e nella prospettiva del reinserimento nella società. E' questo il significato primario del progetto regionale Teatro Carcere in Campania, che lega il mondo del teatro a quello delle strutture carcerarie. Con queste basi al teatro mercadante è stato firmato un protocollo d'intesa, sottoscritto tra il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il coordinamento Teatro Carcere in Campania e l'associazione Carcere Possibile Ollus. Una firma che servirà a rafforzare la rete regionale che valorizza e promuove l'attività teatrale. Tra gli scopi quello di replicare il successo della rassegna curata dall'associazione Carcere Possibile Ollus, che ha visto un gruppo di detenuti attori calcare il palcoscenico di diversi teatri. Ai nostri microfoni ascoltiamo Marco Puglia dell'ufficio sorveglianza del carcere di Santa Maria Capoavetere e Lucia Castellano, responsabile dell'amministrazione penitenziaria della regione Campania. Il teatro si è liberi di esprimersi e il teatro ci aiuta, aiuta tutti i detenuti a ritrovarsi e a imparare anche a stare insieme agli altri, imparare un lavoro di squadra. La volontà di essere consapevoli dei propri sbagli ma anche di trovare negli altri finalmente una possibilità per mostrare, dopo aver postrato ahimè il peggio, il loro meglio perché del meglio in loro c'è e ce n'è anche tanto. Grazie a tutti.